Allo, comunque io vado, ci vediamo Quella è la stradina piccolissima, se arrivano i camion mi ammazza Ok, lì ti sta scritta Ok, devo girare qua Aspettate che faccio un po' bene in giro Non mi ricordo se l'ho visto O dal caso, da quanto rigiro Sì, è questo che mi vado a questa strada Ma che mi vado un po' il coperto che sono stato bagnato Comunque il mio non impenna molto nelle strade Cioè, vedete, impenna poco Se impenna qua, qua impenna parecchio Aspettate un secondo Non sto controllando il mio messaggio Sempre ai compagni Non viano troppi messaggi Comunque c'è da dirlo Uno vuole registrarlo in salta pace Arrivano E infatti Ma che capo ho fatto Quanti messaggi inviati Infatti l'hanno tolto dal gruppo della scuola Ma come è messaggio Mi l'ho fatto sempre E' un giro Qua Mi abbora guarda E' pure la vecchia di ripro Che l'ho da nasale E' infatti a svegliere fa un po' una pena Sì, qua è il monte Cilio Sì, sì E questo è questo raga Un po' continua la stradina Ma ricordo Ehm Perchè io ho visto anche Tecno Scobar Cioè io lo seguo Mi sono abbonato So tutto Tecno Scobar Lascio like ogni video Più se non posso guardarlo Perchè non ho tempo Lo inizio a guardare 10 secondi tipo Aspettatemi Prendi il parecaduto Che non so se ce l'ho Ehm Comunque Tipo penso No ce l'ho Comunque Se non mi posso guardarli Lascio subito il like Appena vedo il video Appena vedo il video Sui cosi Per farmi vedere i video Queste cose qua Quando lo vedo Subito gli metto like Poi tolgo il video E dopo non lo vado a rivedere tutto quanto Da cazzo E' so appassionato col Tecno Infatti da Tecno ho preso La Ehm Cosa per fare video Sono nuovo Tengo gestito 2-3 video Comunque non Oddio No Cazzo Oddio Oddio Raga C'è qualche Non italiano Aspettate che provo Che sta parlando Di brutto Non riesco a sentire Dopodiché Cazzo Non ho scelto Ma non ho scelto Oddio O Uno Fu Un Fu Un 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 Fu Un Fu Un 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 il volume della radio ma anzini il volume della radio guarda esista audio tv devo andare anche controllo su ma non si su mmm no non si può fare tipo che tolgo il volume alla gente ma poi raga eh prova a stare lì vai mamma mia che go go che bomba comunque sia questo il monte sciria non lo ricordo oggi volevo andare a mare nella giornata non reale nel gioco volevo andare a mare poi ho avuto a fare la tempesta quindi ho detto vabbè vado a registrare un video e sono morto no non sono morto forse questi altri che si sentono la canzone dei tirati dei caraibi una cosa del genere oddio come pare è morto eccolo qua prendi il motocross che ero quasi sopra basta con i tirati dei caraibi non piante da qua qua è sempre qua è sempre qua è perché vado troppo veloce nella curva frena ma perchè si sparano? ma boh che me ne fatti di tanto sto vento perchè a meglio vento non piaccia darli vai vai non so comunque il paretolo di scendere è un pochino più piano là dietro là qua c'è un pochino si è andato troppo veloce questo muro quanto mi ha caduto dall'anno non viene così quando il penno in salita me ne so accorto che va un pochino più veloce cioè gli da più spinta al cross si eccomi se c'ho il cross il cross o il montagna e poi si sta scaricando il joystick non fa niente non preoccupate non si spegne ma io quando quando è scarico ci metto almeno 10 no 10 minuti ho già messo l'altra volta una quarta d'ora 20 minuti questo è l'orario non è quasi finito io faccio solo le foto ho un altro cross come il mio oddio mi sono un pochino mi sono un pochino che ho più rotto di quello e allora a me c'era la libri anche questa però che non piaceva mi piaceva più 79 mhm si vedete davanti una cosa si vede meglio con questo qua piccolo oh mi serve il telefono andiamoci qua un po' dove salgo con la cross sopra il tetto di quella che ha ucciso andato ma che c'è testi grosso nella vita mi serve un po' un po' è questo qua voglio prendere anche lo Santos ma non si vede con la pioggia mannaia allora e vabbè non si vede però perchè sta la pioggia mi prende pure il cross quello lì non è il mio spent fatta foto ma vado a fare da più sopra però pure è bella la foto allora è un po' come una cosa brutta salire salire da sul tetto perchè dovevo salire tipo da quelli pilastri me lo salgo da questo qua che è più figo che non è più figo mi trovo di più in questo qua perchè non è molto rapido come quello che sta molto in salida aspettando raga sicuramente non cadevo olè e ci sono riuscito anche se si lo Santos non si vede molto qua sopra lo Santos dovrebbe stare con la montagna ecco vedo i palazzi però non è giornata per fare queste cose boh se qualche altro giorno la faccio pure meglio il video allora speriamo che il video non è venuto da 20 quindi si viene così qua allora allora il santo si dovrebbe dovrebbe tipo si vede di poco qualche cosa aspettiamo la foglia vabbè ormai ci capisci pure che stava sul tetto no basta basta non voglio aspettare sali ma scende è una cosa brutta guardate perché scende quello qua quando è bagnato è un po' brutto oddio raga dai io ho combinato oddio c'è un nome che ha messo alle canzone nel topo di me non è non è un po' sennò se lo funziona ohlala vedete una cosa capo allora no ma no 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 br basta ragazzi quasi muoio e l'interazzo di brutto di brutto un'attività un'attività raga ma io se vuoi rendere da me come credo ah quello è differente solo a fare c'è una famiglia qua come dovrei scendere non cadere dalla moto non cadere dalla moto non cadere dalla moto che è scattato comunque raga finisco il video morello mi raccomando iscrivetevi e lasciate like ciao